ciao amici benvenuti in questo nuovo video di shakes and fidget yeah andiamo al gabinetto subito proprio subito a botta non posso andare al gabinetto solo al cimitero ma non si può fare certe cose in un cimitero effettivamente non si può lavarsi i denti al cimitero ah volevi lavarti i denti io volevo tirare lo sciacquone veramente ma ti sembra il caso e norvi ha fatto dei ricordini che perfile non tenere sinceramente ogni volta che inizia un video di shakes and fidget devi subito curare il gabinetto ma questa volta questa volta è il turno che ci vada io in bagno c'è tempo prima che tu possa andare in bagno come vedete perché ne hai per molto no perché devi trovare la chiave prima non basta arrivare a livello 100 no la sto tenendo da anni comunque come vedete sono a livello 99 mi manca pochissimo per arrivare a livello 100 ci tenevo e quindi finalmente sono prossimo ad ottenere il risultato finale ma prima andiamo a salutare il dottor abba vu vu così se lascio qualche ricordino anche lì lascio a lui ecco fatto gira la ruota cosa vinciamo di bello un libro hai vinto un bel libro è proprio quello che volevo ma visto che sono troppo epico oggi li faccio due volte da un po che mi manca bavufu vediamo un po è meno contento adesso che ho preso dello schifo legno prima ho preso dell'esperienza che non era mica male magari serviva il legno voleva costruirci su un pinocchio adesso invece non può più farlo effettivamente se uno guarda un pochino in giro che cosa sta costruendo è un pochino inquietante non voglio sapere esattamente che sta facendo ciao blob di vango guardate ho preso una nuova arma che in realtà è un dito che ho rubato nel cimitero appunto ah e ho vinto che nel cimitero non si fanno certe cose e fa bene ci si lavano i denti ma visto che non avevo lo spazzolino l'ho messo il dentificio su quel dito oh dai non posso crederci erano zombie testifiche tranquilli che buono ho trovato un funghetto quindi come notate non ho sprecato nulla dammi qualche super mega missione piena di quella 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 è bellissima 168 mila ma che io voglio di aspettare io no perché sono impaziente guardate sto combattendo contro norvi uguale uguale a norvi stesso colore stessa faccia stesse zampe uguale tutto è inquietante ma che sei sentito di livello finalmente we are the champions my cat è norvi poveretto era uguale a norvi quello che abbiamo visto poi e quindi sono a livello 100 teoricamente potrei entrare al gabinetto no devi trovare la chiave ma mi serve la chiave dimmi che qualcuno ha perso la chiave magari in una missione te la danno hai perso non hanno perso la chiave no nessuno ha perso la chiave tutti schifosi maledetti mi raccomando non perdete mai la chiave del gabinetto perché poi un giorno ve ne pentirete altrimenti molto molto presto ma essendo arrivato a livello 99 finalmente ho comunque un altro bonus ovvero la possibilità di entrare all'interno del portale demoniaco quindi è la mia prima volta sono emozionato ti distruggerà almeno fammici provare hai visto quanta costituzione ha col tizio un miliardo immagino che è uno dei nemici da combattere con tutta la squadra con tutta l'agenda esatto ma noi siamo tre gattini però tu almeno sei riuscita ad attaccarlo un pelino qualcosa a volte gli ho fatto ma proprio un pelino proprio sono andata io a tirato via un pelo e zichete intanto prendiamo l'esperienza che avevo tanta paura mi bastava venire qua e ritirare tutto prendiamo anche un pochino di soldini che qui sono ferro e acciaio e poi volendo posso potenziarmi un sacco di robaccia della della fortezza sai che sei senza maghi e senza arcieri vero? ah così la gente ti può rubare tutto quello che vuole sono stati in vacanza eh sì poverini che cosa mi conviene prendere secondo te la tesoreria perché più tesoreria hai e più ti inventa lo spazio dell'inventario zaino a me piace avere lo zaino capiente così almeno ci metto un sacco di panino e carta in gente che bello effettivamente ti servirà perché d'ora in poi tu potrai buttare le gemme nel gabinetto sì poi potrai tirare l'acqua in modo da avere oggettini fighi più o meno lo schermo è un oggetto schifo un oggetto buono un oggetto schifo un oggetto buono infatti devo trovare l'oggetto schifo oggi probabilmente e infatti tra poco andremo nel bagno con Kiria vai nel portale demoniaco che ti si è aperto finalmente posso andare anche qui ti ci vorranno tipo otto mesi per riuscire a sconfiggerlo io l'ho sconfitto dopo tremila anni che ci giocavo dai ma sì l'ho colpito l'ho colpito due volte mi richiaro vincitore vincitore morale punto morale quanto gli hai fatto quanto gli hai fatto di danno eh abbastanza un per cento sai che si genera del 10 per cento ogni giorno del 10 ogni giorno eh sì finché non li fai sotto almeno almeno lo mandi almeno all'89 per cento di vita vuol dire che non li hai fatto nulla oh che bello questo è il gioco che mi sta più simpatico del mondo rende tutti i miei sforzi inutili vai in qualche altro dungeon vediamo la tua potenza infinita nel dungeon il flusso di magma ma che caldo che fa un mazzo così dai dai fortissimo più fortissimo sì dai c'è speranza no non c'è no non c'è ti avevo detto che non c'era ci ero andato vicino ma c'è speranza no non c'è prima non c'è stata adesso ci sarà vedrete vedrete sì 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 no 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 ti avevo detto che non c'era mi ha andato pochissimo di vita basta basta non ti c'è incafonire smettila sto peggiorando sempre di due è troppo forte per te smettila è perché sono stanco capito prima ho fatto meno 4.000 poi meno 30 ma meno 73.000 mamma io ho già schifo ciao maestro voodoo è amico di abba voodoo allora lo ammazzo molto volentieri guarda guarda come me li mangio i nemici normali perché non posso essere così forte anche con gli altri nessuno mi ha stato sconfitto da un nemico normale niente mi sa che non posso andare al cabinetto nessuno vende le chiavi mi dispiace la devo tenere guardate che nemici mi mette contro mi sa che non lo puoi sconfiggere quello mi sembra normale livello 82 cioè siamo tutti fulminati vai non ce la farai mai vai con tu blasta ti spacherà in due ti userà per pulirci le scarpe vedrete oggi sono forte nei dungeon oggi sono carico vedrete che sono carico non è andata tanto bene oggi nei dungeon peccato non credo di riuscire ad aumentare troppo l'intelligenza senza finire i soldi no amore no tu non puoi essere più intelligente di così arriva 2000 ora sono devastante e visto che sono devastante no 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 fagli vedere come sei foste fagli vedere che sei cattivo fagli vedere che sei esce no no mi ha ammazzato in meno tempo di prima eh appunto mi sa che quei soldi sono andati un po' quelli sono andati nel gabinetto stavolta vuoi andare nel mio account devo tirare l'acqua ok allora intanto che resto costipato cambiamo account e andiamo a vedere che cosa combinerà Kyria benvenuti nel mio account adesso andiamo al gabinetto due ore che ci voglio andare anche io ho diritto un po' di carta igienica in pace finché non ero a livello 100 non ho mai sentito nessuno stimolo ma effettivamente capisco che il livello 100 sia fortemente lassativo eh appunto quindi vai lì e tira l'acqua scusa ok sei pronta ti ho l'acqua ooooh bababum cos'è cos'è stivali dai passi silenziosi di nascosto facilmente ma lo devo inventarlo pieno scegli qualcosa da buttare nel gabinetto posso buttare quello che voglio la carta igienica la mangio la mangio no 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 prendi per esempio quell'elmo laggiù quello con la pietina rosa questo? no quello accanto questo quello lì si buttalo dentro vediamo che cosa viene fuori magari lo diamo a qualcuno elmo feroce dell'insensibile classe necessaria guerriero ecco parla di guerriero dici che è meglio questo o meglio quello che ha addosso il mio guerriero perché io li sto allenando piano piano sei ancora al primo livello non sembra ma si ho capito poi la tua sorella magari riesce a farlo meglio di me d'accordo allora 1276 e 344 di costituzione più 247 oppure questo che ha un casino di forza che è meglio che gli lasci questo lasciagli quella e allora smontalo smontalo è il destino di tutti gli oggetti che non servono adesso invece o li butti o li smonti ma questo è stato nel gabinetto quindi nessuno me lo paga e finalmente grazie al fabbro che abbiamo visto nello scorso episodio se non l'avete visto vi lasciamo il link in descrizione potete finalmente usare questa roba in più per ottenere almeno qualcosa in cambio ed ecco a voi un sacco di pezzi di ferro ne hai presa di roba mamma mia ho smontato tante belle cosine durante questo tempo è bello pensare che sei andata avanti nel tempo da tantissimo che prendi smonti riguadagni e riperdi ma la carta igienica uno non esce mai senza eh no scusami con la mia fissazione per il gabinetto non posso uscire senza la carta andiamo nella tua fortezza e mi hai dato una cosa ma fai schifo stai senza macchine io sono anche senza soldati infatti sono più coerente non pensi già io non ho combattuto capire ma io non ho combattuto vado a combattere vai a combattere subito corri a combattere sfaticati maledetti attaccate attaccate qualcuno non attaccate oggi sono stanchi prendiamo tutta la roba se prendi tutta hai troppi troppi pezzi di pietra non riescono neanche a metterli via lo so no lo so sono troppi paga paga ok andiamo ad attaccare qualcuno ma per te è tutto più facile ma non voglio sprecare tutti i miei soldati allora vai ma mettici un soldato in più però così non mi piace no fidati no non mi fido no non mi fido fidati di me no non mi fido fidati fidati guarda 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 che se perdo per tutti i tuoi ormai ho capito il senso di questi attacchi non bisogna mai dare il verde basta quella faccettina lì è sufficiente è sufficiente il tuo personaggio è salito di livello 169 69 livelli si frappongono tra mete ma prima o poi non ti raggiungerò mai no non mi raggiunge mai dovresti uccidere il mio personaggio per un po' però aspetta tu ce l'hai la chiave del bagno non è che me la vuoi prestare no perché perché è personale funziona soltanto con le mie impronte a proposito andiamo a vedere se magari non si sa mai oh la sposa è infernale beh quasi quasi allora visto che tu non mi dai la chiave del bagno la chiedo a lei ciao sposa non credo che abbia la chiave neanche lei durante questi secoli di carestia di carta igienica la gilda perlomeno è stata potenziata adesso come potete vedere c'è posto fino a 40 membri ma il livello richiesto minimo è il livello 60 adesso ti ho un po' sbatto fuori pure te io te lo dico no e poi abbiamo anche fatto salire il livello dell'istruttore e il livello del tesoro questo vuol dire che chi fa parte della gilda prenderà più soldi più esperienza dalle missioni quindi è molto comodo e interessante entrare nelle gilde di successo e quindi è entrata nella nostra gilda di successo 236esimo rango sul gabinetto tutti uno sopra l'altro nella pila umana dei gabinetti che non sono umani sono umani i gabinetti dipende se parlano oppure no non lo so adesso vado a parlargli purtroppo questo momento del mese è arrivato e quindi bisogna salire ancora un po' di livello per riuscire ad entrare nella gilda a un certo punto ci fermeremo a 100 a 100 ci fermeremo perché non arriverò mai più a oltre 100 quindi lo faccio per il mio tornaconto personale devi trovare la chiave del gabinetto ho bisogno del gabinetto e quindi se non siete almeno a livello 70 sfortunatamente non potrete restare nella gilda poi quando avremo livello 100 stabile vedremo un pochino anche se mai se riammette delle persone vedremo un po' come ci troviamo l'importante comunque è divertirci se alziamo il livello e soprattutto per far sì che entrino specialmente le persone che sono appassionate del gioco e che ci giocano spesso guarda che belli uomini lo zombie doppio e nel dungeon demoniaco sono a livello 3 e forse domani riuscirò anche a sconfiggerlo sul serio? sul serio? hai già battuto quello schifo? sì e stai per battere di tuoi il 3? mi ci sono volute settimane per sconfiggere il primo è il peggiore di tutto avevi già girato? ho sprecato il funghetto ho già girato ho sprecato il funghetto nooo t'ho fatto avvicinare un sacco sono più soldi di quelli che ho io da quando sono nato ma andiamo a farci un giro nel dungeon magari stavolta è la volta buona che riesco a sconfiggere l'omino di pan di zenzero vai entra nella torre con i tuoi omini e fatti fare un mazzo grosso come una casa cioè non c'è no non ce la faccio ma neanche da lontano non ci si fa quell'omino di pan di zenzero non c'è verso di farlo fuori e vabbè chi di voi riesce a batterlo per favore ce ne dia un morso una gamba un braccio un bottone gommoso adesso direi di andare a vedere anche i famigli di Kiria che Kiria ovviamente è messa molto meglio questo non me lo ricordavo neanche pesce corno mica male carino pesce corno poi abbiamo questa black star quella che mi ha battuto tiadia 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 picchiarilla che è simpatico ho trovato la zucca è stata difficilissima da trovare zulantern che è un margo quindi potrebbe essere ideale per me sì voglio zulantern quanto mi piace e guarda quanti mi hai che caglini peperomane peperomane e bombato e più pianto non riesco a andare avanti perché sono troppo forti i miei avversari no 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 lo ammazziamo con cosa lo ammazziamo? ma andiamo sul sicuro acqua acqua si ma tu non è che hai i gold che schifo ma l'ho smesso di dargli a mangiare ah non lo dai più a lui? no l'ho cambiato persona adesso chi potenza? non me lo ricordo guarda speriamo di non scoprirlo perché vuol dire che abbiamo stravento bravi picchiarilla picchiarilla è veleno antinope fortina eh ma non può fare niente contro una boccia di vetro hai preso anche una bellissima meluzza uno dovrebbe mettersi qui e leggere attentamente come fare a sbloccare ciascuno dei famigli tipo quello durante la domenica di Pentecoste esatto è una possibilità all'anno di trovarlo uno dovrebbe mettersi a scriversi sul calendario quando ci sono degli eventi speciali l'ho fatto l'ho fatto ho una pagina dell'agenda che ho scritto dove trovare in famiglia bene 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 visto che sicuramente devo andare al gabinetto salto ancora una volta ma basta saltare mi scappa mi scappa devo andare non ci devi andare è chiuso è chiuso è chiuso soffri devi soffrire vado a inceppare la pecora vado a inceppare la pecora inoltre se fate parte di una gilda non dimenticatevi di potenziare la sala dei cavalieri perché in questo modo le gemme che trovate nella miniera saranno di qualità migliore sia le vostre che quelle dei vostri compagni quindi entrate in una gilda entrate nella gilda Terda Love se siete di livello 70 o più e se in generale vi piace come gioco i posti disponibili ci sono e sarà divertente ancora di più se siamo tutti una squadra coesa che gioca spesso perché così quando dichiariamo guerra a un'altra gilda o attiviamo un ride più persone sono disponibili a giocare più facile sarà vincere e non sprecare tantissimi soldi nel gabinetto ma stavolta non letteralmente ma comunque verranno bruciati vivi e magari una volta riusciamo anche a sconfiggere il primo atto del portale demoniaco che ci siamo fermi ormai da 300 secoli non c'è presto di andare avanti ma ora che ci sono io avete visto quanto sono stato bravo vedrete vedrete sono troppo forte se questa è la prima volta che guardate un nostro video di Shakespeare e Fidget sappiate che è un browser game completamente gratuito che si gioca su Chrome Firefox Opera quello che usate voi a proposito voi quale browser usate domanda curiosità nostra Chrome e in realtà io li uso tutti tranne Internet Explorer sì idem in ogni caso la cosa interessante è che è un gioco completamente gratuito il link è in descrizione e se volete giocare con noi ricordatevi di creare il vostro account nel server internazionale uno mandateci un messaggio privato e se potete entrate a far parte della gilda del gabinetto gli cambiamo nome la gilda no no non fanno vado qui no allora fammi scrivere 70 e poi gli mettiamo la gilda del gabinetto umano ma perché ma perché è un hashtag in fondo che fa sempre figo ma perché hashtag in fondo vanno in cima gli hashtag esatto vanno in cima gli hashtag perfetto abbiamo anche il nuovo hashtag grazie a tutti per essere stati con noi ci rivediamo il mese prossimo per le aggiornamenti di shakes and fidget e alla prossima con eterna love e tu dovrai tenertela per ancora un altro mese ciao la prego buon uomo non posso resistere un mese non ce la potrei fare mi dia la chiave la prego con quella faccetta la vedo che ha l'occhio vispo per favore mira l'occhio e guarda incredibile coincidenza ma guarda quanto costa dovresti venderla no no non posso resistere un minuto di più questo livello cento è così lassativo l'ho presa l'ho presa è mia ho portato il camionetto sii che bello che bello ma fa schifo è sporco buttaci dentro il detergente buttaci una gemma non quella che è troppo grossa buttaci quella rossa che fa schifo vai pronti wow wow guarda si sta riempendo di liquido giallo quando è arrivato a cento potrai tirare l'acqua e ci troverai dentro una di quelle perché non ci posso tu c'hai quella e io c'ho la cartigenica siamo una coppia perfetta wow una vera coppia di ex pelliarmus